in questo secondo video parleremo delle funzioni prima però di affrontare le funzioni fatemi tornare a una slide precedente perché mi sono accorto che nel video precedente l'ho spiegata due modi diversi entrambi modi sbagliati e mi sto riferendo quindi scusate ma si fa prima in questo caso a fare una correzione che non riregistrare il video di un'ora intera e mi sto riferendo a questa parte allora resettiamo quello che ho detto prima parliamo di oggetti parliamo di proprietà degli oggetti c'è una flessibilità nell'accedere alle proprietà dell'array dove l'array in questo caso è l'array associativo quindi in accedere alle proprietà dell'oggetto e qui c'è un esempio se io avesse un oggetto che si chiama person e questo oggetto person avesse varie proprietà address 1 address 2 address 3 tutti uguali ovviamente a qualcosa ovviamente sono righe di un indirizzo per esempio questo è il primo indirizzo questo a 2 il secondo indirizzo a 3 la città per esempio o il codice evento postale eccetera è possibile accedere a questo address 1 address 2 address 3 scrivi concatenando le stringhe quindi concatenando address con per esempio l'indice 1 2 3 dell'oggetto quindi giusto per capirci visto che prima appunto c'è stato un po' di confusione immaginiamo di avere un oggetto uguale a address 1 due punti xxx e address 2 due punti alessandria quindi un oggetto che ha due chiavi che si chiamano uno address 1 e l'altro address 2 noi possiamo per esempio stampare accedere a person address più 1 quindi possiamo fare concatenazione di stringhe concateniamo la stringa address con il numero 1 o 2 e allora e quindi vedete che stampa x quindi possiamo mettere insieme due stringhe se sappiamo di avere delle nomi di proprietà composti, componibili da più stringhe address è un numero oppure tutte con un suffisso uguale e volessimo ciclare su quel suffisso per esempio allora potremmo mettere quel suffisso in una variabile i o suffix eccetera e concatenare il pezzo del nome della proprietà che cambia con questo suffisso per stampare di volta in volta quello che ci serve ora questo non è raccomandato, non è neanche tanto bello perché per quale motivo io se volessi un indirizzo devo metterlo in 14 un indirizzo nome, scusate, un indirizzo del tipo via, codice mento postale, città, provincia, scala o cose del genere, devo metterlo in tanti, tante chiavi, in tante proprietà diverse potrei avere una proprietà più ampia che ha dentro al suo interno un oggetto che ha dentro un array e quindi dentro quest'array avere in prima posizione dato che l'array è ordinato l'indirizzo in seconda posizione avere il codice mento postale, in terza posizione la città e così via quindi questo non è, è lecito, funziona, ma non è tanto raccomandato non è neanche tanto bello se volete da vedere, da utilizzare quindi questo è quello a cui mi riferivo qui e a questo property name possono essere stringhe calcolate quindi c'è una flessibilità nell'accedere alle chiavi di una proprietà utilizzando il paradigma degli array associativi ecco perché qui c'è array quindi questo spero chiarisca e corregga quello che ho detto nel video precedente ora parliamo di funzioni le funzioni sono uno degli elementi più importanti in assoluto in javascript quindi bisogna fare molta attenzione ed essere io cerco di essere praticamente chiaro ma voi cercate d'altra parte di stare particolarmente attenti su queste parti delle funzioni e fatemi domande quando ci incontreremo in video chat, in videoconferenza relativi a soprattutto questa parte se non avete capito perché le funzioni sono davvero uno degli elementi più importanti fondanti di molte molte cose in javascript che faremo una funzione delimita un blocco di codice con uno scopo privato relativo unicamente alla funzione può come ogni funzione accettare parametri e una funzione in javascript può ritornare uno e un solo valore questo valore ovviamente potrebbe essere un oggetto e quindi contenere al suo interno tante proprietà però un solo valore quindi ritorna una sola cosa le funzioni in javascript sono a loro volta oggetti questo è una cosa diversa rispetto alle funzioni di cui avete sentito parlare finora in quanto possono essere assegnate a una variabile possono essere passate come argomento in un'altra funzione e possono anche essere usate come un valore di ritorno quindi una funzione che mi ritorna un'altra funzione quindi possono essere utilizzate sono oggetti quindi possono essere utilizzati laddove usereste tipicamente altri oggetti quindi assegnazione di variabile passaggio di argomenti e ritorno di valore e vedremo in questo video questi tre casi piano piano allora come dichiariamo una funzione abbiamo tre modi di dichiarare una funzione il modo classico che è quello che abbiamo visto anche sulla fine del video precedente nella funzione costruttore si usa la parola chiave function funzione poi c'è il nome della funzione in questo caso do ma può essere function il mio indirizzo function quello che volete voi quindi aperta parentesi e gli eventuali parametri uno o più parametri aperta parentesi graffa chiusa parentesi graffa e in mezzo si definisce lo scope un nuovo scopo uno scope proprio della funzione e il codice è relativo alla funzione quindi questa è la modalità classica più simile a quella che che conoscete anche da altri linguaggi function nome della funzione aperta parentesi parametri separati da virgola e questo è un esempio voglio calcolare il quadrato faccio una funzione che si chiama square che ha un parametro che è x e poi gli dico che x va moltiplicato per se stesso e ritorno e lo memorizzo in una variabile y e poi ritorno y come variabile quindi quando passo 4 x assumerà il valore di 4 farò 4 per 4 memorizzerò 16 in y e ritornerò il valore di y e qui c'è una piccola immagine che racconta cosa succede durante l'esecuzione di quella di questa funzione e qual è il risultato dopo che la funzione è eseguita allora vedete che durante l'esecuzione abbiamo un valore che è x e abbiamo un valore di y che esiste solo qui dentro all'interno della funzione e abbiamo un valore di ritorno che è 16 perché 4 per 4 fa 16 dopo l'esecuzione della funzione avremo invece solo n uguale a 16 quindi questo n qua la variabile x e y le perdiamo perché sono nello scope privato in un certo senso visibile solo all'interno di questa funzione e non è visibile nello scope invece globale che racchiude tutto i parametri come potete immaginare e sono una lista separata da virgole di nomi di parametri quindi x virgola y virgola qualcos'altro e potete assegnare un valore di default a un parametro in questo modo quindi nome di parametro uguale 1 per cui se il parametro non viene passato dalla funzione chiamante dall'istruzione chiamante quindi se in questo caso noi chiamassimo solo a per esempio passassimo solo a a una funzione a quel punto b assumerebbe automaticamente il valore di 1 quindi è come se qui avessimo un x virgola y uguale 1 e noi passassimo solo x y qui dentro varrebbe 1 finché ovviamente non viene ridefinita i parametri in una funzione sono passati per valore quindi sono copie dell'oggetto che si riperiscono e se voi avete una funzione con diciamo 3 parametri e passate solo il primo e gli altri due non hanno un valore di default gli altri due prendono il valore undefined quindi all'interno di quello scope della funzione i parametri che voi non passate chiamando la funzione avranno come valore undefined per tanto è possibile definire una funzione con 3 4 5 80 parametri ma chiamare quella funzione solo che primi 3 parametri tutti gli altri se non hanno un valore di default assumeranno il valore undefined è ovviamente possibile controllare se ci sono dei parametri undefined per esempio in questo modo in questi due modi analoghi dove vi ricordo che questo operatore l'abbiamo visto l'altra volta vuol dire che P se P è vero allora restituisco P altrimenti restituisco il valore di default c'è un parametro diciamo speciale che è il parametro rest rest è il duale dell'operatore spread però questa volta è un parametro rest è un è una sintassi per le funzioni per permettere alle funzioni di avere un numero di parametri non predefinito non fisso quindi e come si indica si indica in questo modo esattamente come l'operatore di spread con tre puntini quindi io posso definire una funzione che avrà parametro 1 parametro 2 e poi dei parametri puntini 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 questo parametro si chiama parametro rest quindi puntini 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 ar in questo caso quando è in una funzione deve essere l'ultimo parametro della funzione e per come funziona depositerà ogni argomento passato a questa funzione dopo il secondo nel nostro esempio in un array quindi se voi chiamate questa funzione fan con tre parametri qui ci sarà un array che si chiama ar che avrà un solo oggetto a suo interno se voi chiamate questa funzione fan con otto parametri tutti i parametri tranne i primi due il terzo il quarto il quinto fino all'ottavo saranno memorizzati dentro una variabile che si chiama ar qui c'è un altro esempio se noi chiamiamo la funzione somma tutti che ha un valore iniziale e tanti altri valori quindi è una funzione che dato una serie di numeri li sommi possono essere due possono essere cinque possono essere centomila voglio una serie di numeri separati da virgola e voglio fare la somma di tutti quelli posso fare in questo modo quindi il primo parametro è il valore da sommare poi metto tutti gli altri parametri non mi interessa quanto siano con un operatore di di resto a questo punto posso sommare tutti questi parametri tra di loro e ottenere così la somma quindi posso avere un numero di parametri associati passabile a una funzione variabile allora se voi ricordate prima il video precedente quando abbiamo parlato degli oggetti a un certo punto vi ho detto che assign ha come secondo parametro varie source varie sorgenti in realtà questo se voi l'andate a vedere nella documentazione come è scritto è scritto col parametro di resto quindi è scritto puntino 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 sources questo perché è il primo parametro del target tutti gli altri saranno invece tutti sorgenti da poi che poi il metodo assign unirà e metterà in questo target questo è un altro esempio in pratica del del parametro rest quindi il parametro rest è in un certo senso un parente del parametro spread ma si applica dell'operatore spread ma si applica in questo caso ai parametri delle funzioni il secondo modo per dichiarare una funzione è questo qui quindi è definire una variabile in questo caso una costante ma potrebbe anche essere let uguale function aperta parentesi i suoi parametri e poi aperta parentesi graffa è tutto come prima oppure e questo si chiama function expression quindi una funzione un'espressione di funzione questa function expression può essere anche con nome e allora essenzialmente consiste nella modalità classica che è questo function nome della funzione parametri a che viene assegnata però a una variabile allora notate che questo che noi stiamo assegnando una funzione a una variabile come proprio perché le funzioni sono oggetti in javascript quindi questo è possibile farlo e sono metodi equivalenti di dichiarare funzioni e se voi vedete questi due sono il primo è una funzione dichiarata in modalità classica il secondo è una funzione dichiarata in modalità espressione nella seconda modalità con nome tra l'altro c in questo caso come si chiama questa funzione si chiama semplicemente utilizzando il nome della variabile e passando il parametro quindi cube che il nome della variabile è 4 quindi questo 4 verrà poi passato qui dove c'è questa x quindi corrisponderà a questa x e quindi verrà passata alla funzione square e così via vedete che però in memoria queste due funzioni vengono rappresentate nello stesso identico modo quindi sono due modi diversi di scrivere comunque la stessa cosa la stessa funzione qual è la differenza? la differenza è che l'espressione funzione quindi questa l'espressione funzione questa qui la seconda crea un nuovo oggetto di tipo funzione e restituisce il risultato quindi ogni variabile si può riferire a quella funzione e può anche chiamarla a differenza dell'altro che invece è definita e rimane lì in più in questo modo si può anche memorizzare questa funzione questa espressione di funzione all'interno di un array o una proprietà di oggetto oppure passarla come parametro a un'altra funzione ridefinirla eccetera cosa che invece nel primo caso nella prima sintassi non è possibile allora se noi passiamo una funzione a una proprietà di oggetto in realtà stiamo definendo un metodo perché a quel punto il valore di una certa proprietà potrà essere voi potreste chiamare chiave della proprietà aperta parentesi qualcosa quindi diventa un metodo di quell'oggetto oppure passarlo come un parametro a una funzione quindi passare una funzione come parametro a un'altra funzione che è una callback che vedremo nel video successivo infine c'è un terzo modo di dichiarare le funzioni che si chiama error function quindi una funzione a freccia che prende il nome dal fatto che appunto si dichiara con questo simbolo che assomiglia a una freccia quindi come questa questo formalismo questa sintassi di nuovo c'è una variabile uguale a questo punto non c'è più nessuna parola chiave function nessun nome di funzione c'è la parentesi con i parametri e poi c'è questa freccia uguale maggiore parentesi graffa la il corpo della funzione vera e propria quindi questi sono tre modi di dichiarare funzioni classico con function expression con o senza nome e arrow function se noi riprendiamo l'esempio di prima e vediamo come si utilizza la questa funzione vediamo che a differenza degli due passi precedenti in cui comunque venivano utilizzati function eccetera questo è molto scritto in maniera molto più compatta ed è essenzialmente uno shortcut una scorciatoia per eseguire una funzione però a sua volta è una funzione a sua volta si può fare tutto quello che potremmo fare con le espressioni di funzione che abbiamo visto prima e come definiamo i parametri nelle funzioni arrow come in maniera probabilmente come immaginate se non ci sono parametri solo le parentesi tonde vuote se c'è un parametro si possono o meno usare le parentesi tonde che racchiudono i parametri se ci sono più parametri si devono obbligatoriamente usare le parametri tonde se ci sono si possono anche avere più parametri con un default esattamente come per gli altri per i parametri delle funzioni definite in maniera classica quindi quello che cambia è la modalità in cui si definisce la funzione e se volete come si tratta una funzione con un parametro che può avere o non avere le parentesi tonde quali sono qual è il valore di ritorno di una funzione non importa in questo caso come la definiamo se una funzione non ritorna niente non ha un allora se una funzione deve ritornare un valore e si può utilizzare la parola chiave return esattamente come in altri linguaggi che già conoscete il c il java eccetera se non si utilizza return ritorna un valore una funzione che è undefined solo un valore può essere ritornato ovviamente poi si può ritornare oggetti si possono ritornare array e quindi utilizzare gli oggetti o gli array per ritornare in realtà più valori contemporaneamente e qui c'è un esempio di una funzione arrow senza parametri che ritorna un array di due elementi e quindi quando si invoca questa funzione vedete che la invochiamo chiamando di nuovo il nome della variabile e aprendo le parentesi in questo caso con eventuali parametri che qui non ci sono questa ritorna un array e quindi possiamo memorizzare i suoi valori in due variabili separate rappresentate come un array nel lato sinistro dell'espressione esattamente come abbiamo visto la settimana scorsa e anche in maniera analoga come abbiamo visto per gli oggetti per l'operatore di spread degli oggetti giusto per richiamarvi la slide e a quel punto possiamo stampare per esempio string o possiamo stampare num le funzioni di arrow hanno un return implicito se c'è solo un valore quindi scrivere return square di x per square di x è equivalente a scrivere square di x per square di x quindi se c'è solo un valore e vedete si può scrivere in questo modo senza parentesi graffe aperte e chiuse è come se scrivessimo return di questa cosa quindi la funzione arrow con una sola riga con una sola operazione può omettere le parentesi graffe e soprattutto quell'operazione è quella che viene ritornata in automatico ovviamente se ci sono più di una riga nelle funzioni arrow avete bisogno obbligatoriamente delle parentesi graffe e avete bisogno di esplicitare qual è l'istruzione che volete tornare se ce n'è una le funzioni in javascript essendo come vi ho detto assimilabili essendo oggetti in realtà possono essere anche innestate l'una dentro l'altro quindi definire una funzione all'interno di un'altra funzione tutte le volte che volete diciamo che a volte è tipico vedere una funzione padre con una funzione figlio al suo interno e qui di nuovo ci sono due esempi questo ipotenusa è la funzione padre è la funzione superiore e questo square è una arrow function inserita al suo interno qui c'è un altro esempio di una funzione superiore e della stessa funzione di prima definita come funzione invece normale all'interno della funzione superiore queste due modalità sono equivalenti ovviamente perché sono entrambi definire una funzione all'interno di un'altra funzione e per motivi che vedremo più avanti soprattutto relativi al this in javascript alla keyword this in javascript questa modalità è in genere preferita quindi quella della arrow function perché l'arrow function è sintaticamente simile diciamo funzionalmente simile a una funzione normale ma ha delle proprietà diverse per quanto riguarda lo scopo quindi dato che questi due sono equivalenti per quanto riguarda il risultato in una funzione nested è preferibile utilizzare l'arrow function perché ci previene certi tipi di problemi soprattutto con this notate che quando si innestano funzioni la funzione interna ha uno scopo che è all'interno della funzione esterna e non può essere chiamato al di fuori mentre quindi la funzione esterna non può accedere alle variabili della funzione interna quindi questa ipotenusa non può accedere a questa x mentre square potrebbe accedere ad eventuali variabili che questa funzione ipotenusa definisce parlando di funzioni in javascript non possiamo non parlare di closure allora qui c'è una definizione di closure poi vedremo un esempio pratico a breve allora cos'è una closure leggo questa definizione una closure è un nome dato a una funzionalità di un linguaggio per cui una funzione innestata una funzione interna eseguita dopo l'esecuzione della funzione esterna può ancora accedere allo scopo della funzione esterna quindi è abbastanza può accedere a questa variabile può farlo l'abbiamo visto nella slide precedente quello che ci dice questa definizione è che anche dopo che questa funzione esterna smette di esistere la funzione interna si è richiamata può ancora accedere a questa variabile definita nella funzione esterna questo mentre le funzioni sono uno degli elementi più importanti di javascript la closure è uno dei concetti più importanti delle funzioni in javascript insieme alle callback che vedremo nel prossimo video vediamo un esempio per capire quello che abbiamo cripticamente definito allora javascript usa uno scope lessicale quindi ogni nuova funzione definisce un nuovo scope per le variabili che l'essa stessa dichiara l'esempio che ho fatto prima la funzione superiore dichiara una variabile la funzione interna dichiara un'altra la funzione interna può vedere la variabile della funzione esterna la funzione esterna non può vedere la variabile della funzione interna quindi ogni funzione definisce un suo scope per le sue variabili che vede solo lui tranne le funzioni interne che possono accedere allo scopo di tutte le funzioni che la precedono, che la richiudono, quindi in un caso con due variabili avremo due funzioni, avremo una funzione esterna e una funzione interna, nel caso in cui abbiamo tre, una funzione esterna, che ne contiene un'interna, che ne contiene un'interna, che ne contiene un'interna e così via, tutte le funzioni interne possono accedere, l'ultima funzione interna può accedere a tutte le variabili, tutte le funzioni che contengono quella funzione. E ogni oggetto di funzione, tanto che è una funzione o un oggetto, ricorda lo scopo dove è stato definita, anche se la funzione esterna non è più attiva. E questa è la closure. Allora, cosa vuol dire in pratica? Prendiamo questo esempio. Noi qui abbiamo una funzione che serve per fare dei saluti, greeter, che vuole un nome come parametro. Questa funzione definisce poi una variabile, una costante, che si chiama myName e che memorizza quello che viene passato da questo parametro. Questa funzione, a questo punto, definisce una funzione interna, che si chiama hello. Che casualmente è una funzione arrow, senza parametri. Questa funzione interna fa una sola cosa, ritorna hello spazio più il contenuto di name. Quindi se noi qua passiamo Luigi e Luigi verrà assegnata myName, questa funzione hello, quando verrà chiamata, ritornerà hello spazio Luigi. Quindi, funzione interna di greeter. Può accedere alle variabili definite in greeter, perché può accedere allo scopo di greeter. Greeter non può accedere allo scopo di hello. Questa funzione si chiude qui, viene definita qui, e a quel punto la funzione greeter fa return di hello. Notate che, come è scritto questo hello. Notate come è scritto questo hello. Questo hello è questo costante che abbiamo visto prima, ma questa costante è una funzione. Quindi noi stiamo tornando in realtà qualcosa che assomiglia a questa funzione. Notate che non stiamo ritornando hello aperta e chiusa graffa, è aperta e chiusa tonda. Perché se ritornassimo hello aperta e chiusa tonda, noi in realtà staremo eseguendo hello, e quindi staremo ritornando hello più myName. Noi stiamo ritornando la funzione, proprio la funzione. E allora, vediamo in pratica cosa vuol dire questo stiamo ritornando la funzione. Vuol dire che noi qui abbiamo fuori da queste definizioni, abbiamo definito una variabile, che è una costante, che si chiama hello Tom, e questa variabile è uguale a greeter di Tom, e un hello Jerry che è uguale a greeter di Jerry. Quindi chiamano questa funzione superiore. E poi possiamo fare console.log hello Tom e console.log hello Jerry. Allora, cosa succede con le parentesi? Cosa succede? Che greeter è una funzione, quindi noi stiamo assegnando a questa variabile una funzione, in un certo senso, e quindi questa variabile poi possiamo chiamarla, questa costante, possiamo chiamarla come fosse una funzione senza nome, che abbiamo visto prima, e quindi possiamo scrivere hello Tom. Cosa succede quando scriviamo hello Tom? Succede che hello Tom, succede che greeter in realtà ha ritornato hello. Quindi hello Tom sarà un riferimento a questa funzione qui, hello. Quindi quando chiamiamo hello Tom, noi staremo eseguendo questo. Allora, quando eseguiamo questo, noi dobbiamo ritornare hello spazio my name, ma my name è definito qui, nella funzione superiore. E a che cosa corrisponde my name? Corrisponde a questo Tom, e corrisponde l'altra volta a questo Jerry. Quindi la closure è quel meccanismo per cui queste righe funzionano, e ci stampano hello spazio Tom, e hello spazio Jerry. Perché nonostante questo hello Tom sia un riferimento a questa funzione interna, quando è stato creato questo Tom, è stato passato qui, e quindi questa funzione interna, anche se questa fuori non è più chiamata, perché noi stiamo facendo, con questo hello Tom c'era questo return, quindi stiamo eseguendo in realtà solo questo pezzo, questa funzione interna, questa funzione interna riesce a ricordare, riesce a recuperare quello che era presente all'interno di questa costante. e lo riesce a recuperare in una maniera corretta, da una parte stampando Tom, dall'altra stampando Jerry. Quindi qui c'è scritto più o meno quello che vi ho detto. Hello accede alla variabile my name, che è definita nell'outerscope, quindi nello scope della funzione che lo contiene, e può farlo perché è una funzione interna che accede a una funzione esterna. La funzione è ritornata, come hello Tom e hello Jerry, quindi rinominiamo in un certo senso hello, in hello Tom e hello Jerry, e ognuna delle funzioni ricorda la reference a my name quando è stata definita, quindi quando è stata passata qui. Perché, di nuovo, quando abbiamo chiamato greeter di Tom, abbiamo eseguito questa funzione, quindi Tom è stato messo in questa variabile, e abbiamo ritornato, questa non è stata eseguita, perché nessuno l'ha chiamata, ma l'abbiamo ritornata, quindi abbiamo ritornato questa funzione, senza eseguirla. Qui eseguiamo questa funzione che abbiamo ritornato, che è qui definita. Non eseguiamo tutto quello fuori. Quindi ognuna della funzione continua a ricordare la reference a my name, di my name, e quando è stata definita, anche se la variabile a questo punto è andata fuori scopo, perché greeter ovviamente non viene più chiamato. Qui non si chiama più greeter, qui si chiama solo hello. Quindi questa variabile, grazie alla closure, è ancora accessibile, qui è ancora accessibile, non è stata distrutta, anche se fuori scopo. E questo è quell'altro esempio, che dicevamo all'inizio, che la funzione è come un oggetto, e quindi può essere passato come parametro, oppure può essere passato come valore di ritorno di una funzione, in questo caso. Questa funzione greeter ritorna a una sua funzione interna. Le closure si possono utilizzare per murare gli oggetti, e qui c'è un esempio, in cui si definisce una funzione counter, e una funzione inner, che è get next, che essenzialmente aumenta il veglio del contatore, e lo ritorna. E utilizzando la closure, quindi ritornando la funzione, noi in un certo senso inizializziamo la funzione counter, l'oggetto counter, e quindi poi chiamando l'oggetto counter, siccome noi in realtà chiamiamo get next, tutte le volte che lo chiamiamo, aumentiamo di uno value, che era inizializzato a zero nell'oggetto counter. Perché get next riesce comunque ad accedere al contenuto di value, che era impostato a zero, in questo caso, prima, e anche se è fuori scopo, come nel caso precedente. Questo funziona anche per emulare dei metodi. Questa è la stessa cosa, solo che invece di ritornare una funzione, noi ritorniamo un oggetto che al suo interno ha due funzioni. Quindi quando noi inizializziamo c, come counter, noi in realtà a c, stiamo dicendo che c è un oggetto, che ha due funzioni al suo interno. E allora abbiamo detto che quando noi passiamo una funzione a un parametro di un oggetto, è come se stessimo passando un metodo, è come se stessimo definendo un metodo, e quindi possiamo fare c.count, perché count è la chiave di tipo funzione di quel parametro, e ovviamente tutti i vari metodi chiamati su c funzionano ogni volta, sia il reset, sia il count, che aumenta in maniera analoga come prima il valore di n uguale 0, che grazie alla closure riusciamo a recuperare anche se siamo fuori dello scopo di counter. Anche se counter, in un certo senso, non esiste più. Il suo scopo non è valido, però la variabile non è stata distrutta. Un altro tipo di funzioni sono queste IFE, Immediately Invoked Function Expression, che sono espressioni di funzioni, e che essenzialmente sono funzioni che possono proteggere lo scopo, lo scopo delle variabili e delle sue funzioni interne. Quindi si può dichiarare una funzione che abbia delle variabili interne, con delle funzioni interne, che sono chiamate una sola volta, e poi si butta via tutto. E come si definiscono? Si definiscono le funzioni, si definiscono in maniera normale, come la funzione, le funzioni interne, per esempio questa function, aperta graffa, e qui c'è il contenuto della function. Queste IFE hanno, al di fuori di questa funzione, una parentesi tonda aperta e chiusa, e poi un'altra parentesi tonda aperta e chiusa subito, proprio come se fosse una funzione. Come se questo fosse il nome della funzione, e questo appunto le parentesi del nome della funzione. e si possono anche ovviamente assegnare a una variabile esattamente come prima. Nella stessa modalità, aperta tonda, funzione, espressione di funzione, chiusa tonda, aperta e chiusa tonda, come fosse una funzione. E anche queste si possono utilizzare per emulare gli oggetti con i metodi. Possiamo definire C, questa volta non dobbiamo restituire qualcosa, come facciamo con la closure, ma possiamo definire C come una ife, e questa ife definirà un n, e poi ritornerà la funzione count, la funzione reset. E quindi potremmo dire C.count e C.reset, ogni volta che vogliamo. Quindi se chiamiamo C.count, la prima volta faremo n più 1, stamperemo 0, la seconda volta stamperemo 1, poi lo resettiamo, e così via. e questo chiude il secondo video sulle funzioni. Prossimo video, le callback. di youtube, l'applicia, e questo chiude, E questo chiude,